Festa degli auguri della Polizia di Stato con la banda della Polizia di Stato, con tanti ospiti, tanti personaggi che non hanno mancato a questo appuntamento, un appuntamento vicino alla gente, perché questo poi è lo slogan che ha sempre adottato la Polizia di Stato. Per noi questa è un'iniziativa importante anche come Polizia di prossimità, nel senso che noi attraverso queste iniziative e la musica in questo caso abbiamo il piacere di avvicinare la gente alla Polizia di Stato, quindi la prossimità della gente con la Polizia di Stato. Sono eventi interessanti, riusciamo ad avere qui oggi la banda musicale della Polizia di Stato, sono dei professionisti, sono 60 elementi, li ascolteremo, poi bravissimi, che accompagneranno anche degli artisti importanti, Red Canzian, Alex Britti, uno soprano vittoriano di Amicis, molto conosciuta, molto ricordata. È stato un turbinio di emozioni, dai Beatles a Morricone, Red Canzian, Alex Britti, e devo dire che il pubblico ha sentito la nostra partecipazione, la partecipazione degli artisti che amano in un certo senso anche collaborare con la nostra orchestra. Molto emozionante anche perché hanno fatto dei brani importanti, abbiamo toccato le note di Ennio Morricone, un soprano straordinario, tanti artisti, quindi è stata una gran bella serata. Andrebbe replicata più spesso, magari ne facciamo una a Pasqua, a Ferragosto.